E già Xiaomi 13 Lite, so che uscire così in ritardo con la recensione di questo smartphone è un po' un rischio Era un po' un rischio quando ci ho pensato, però mi sembrava la cosa giusta da fare per due motivi Uno, aspettare un aggiornamento software che è arrivato e ha migliorato effettivamente l'esperienza d'uso Adesso è uno smartphone piacevole da utilizzare, spesso me lo sono portato in esterna come unico smartphone e mi sono trovato bene Più che altro il secondo punto era che volevo aspettare la possibilità di parlare, senza imbarghi e cose varie, degli Xiaomi Redmi Note 12 Pro Ecco, qui ho tra le mie mani il Redmi Note Pro Plus, ma quello che avrei voluto comprare effettivamente a questo 13 Lite è la versione Pro Base Che pesa poco più di questo 13 Lite, ha la stessa fotocamera principale ma stabilizzata otticamente Ha più batteria, ha la stessa ricarica rapida, ha comunque un display AMOLED decisamente simile comunque al top della fascia media Un stock che sulla carta dovrebbe andare peggio ma alla fine vedremo che in vita reale sono più o meno lì Abbiamo qualcosa in più come per esempio il jack, lo speaker superiore, quindi un audio stereo effettivo Insomma, tante cosine che ci fanno dire Ma perché alla fine devo considerare questo Xiaomi 13 Lite se i Redmi Note mi offrono di più sia il Pro Plus che il Pro e costano alla fine anche di meno? Quindi direi di non perdere tempo, oggi parliamo principalmente di lui Ma ci buttiamo ogni tanto in mezzo anche i Redmi Note Pro per capire effettivamente quanto Xiaomi poco ci abbia puntato su di lui Adesso vi racconto anche perché Lo Xiaomi 13 Lite non è nient'altro che il CD2 presentato in Cina praticamente a ottobre, novembre Questo ci fa anche capire già una cosa essenziale Perché arrivi con Android 12? Perché in Cina è stato presentato un bel po' di mesi fa E non è stato fatto nessuno sforzo per integrare Android 13 nel rilasso qui in Europa Ma proprio perché forse ci puntavano poco, si puntava tutto sui Redmi Note Anche se a dirvi la verità esteticamente questo 13 Lite non ha rivali Perché è uno smartphone piacevole proprio da vedere e da tenere in mano Dato che è super leggero, il retro è ben lavorato, ha un grip ok, buono Non è un device compatto ma non è neanche una padella incredibile Anzi è piacevole ad utilizzare grazie anche ai 170 grammi circa di peso e ai 7 mm più o meno di spessore Il bordo curvo è integrato benissimo con il frame, non c'è praticamente scalettatura È vero la camera posteriore è un pochino rialzata, non serviva ma credo che sia più una cosa estetica Superiormente troviamo solo una scritta Dolby Atmos, un microfono principale, il sensore infrarossi Inferiormente abbiamo il carrellino per le due sim, microfono principale, speaker principale e Type-C Lo speaker secondario è tramite la capsula auricolare C'è lo Louis On anche se sappiamo che con lo Xiaomi non è uno dei più ricchi E sblocchiamo questo 13 Lite tramite l'impronta sotto al display Questa è una cosa che per esempio non troviamo sui Redmi Note che lo hanno laterale E qui magari alcuni di voi possono fare il ragionamento Preferisco laterale o sotto al display Io essendo mancino preferisco quello sotto al display Tra l'altro è vero che i Redmi Note hanno questo frame in plastica che non fanno nulla per nasconderlo come il 13 Lite Però vi dirò, questo tipo di design opaco probabilmente resiste di più nel tempo Mentre magari quello del 13 Lite appena prende qualche microurto rischia di far partire qualche punto di verniciatura Anche il design delle camere sul retro lo preferisco perché non abbiamo questo enorme obloco All'interno poi due sensorini minuscoli Con poi anche quella macrocamera lì Ma più che altro il Redmi Note poi sembra una faccina Come fai a dirgli di no? Assurdo Stupidaggini a parte Una volta sbloccato lo Xiaomi 13 Lite Ci troviamo davanti a un display AMOLED assolutamente di qualità Quello che ho apprezzato del 13 Lite è la taratura del bianco e dei colori già di base È ottimo, ha un buon punto di bianco Mentre con il Redmi Note ho dovuto fare qualche aggiustamento manuale Abbiamo i 120 Hz in tutti e due i casi Non c'è una adattività estrema Abbiamo la classica scalettatura 30, 60, 90, 120 La luminosità di picco è 1000 nits Un numero che tanti di voi diranno Marco ma non è un numero estremo 1500, 2000, 4000 Ci avete ragione Ma non iniziamo a fare la gara ai nits A vedere soltanto i nits Perché possiamo prendere anche un pannello da 4 milioni di nits Ma poi magari ha una qualità terribile Non c'è l'HDR10 Non c'è il Dolby Vision Non c'è l'HIVC Non ci sono tutti quei supporti Che poi permettono a un pannello di essere d'alta qualità Magari un tipo di tecnologia Che permette un pannello più sottile E tante cose di questo genere Ecco il display di questo Xiaomi 13 Lite In applicazioni come Netflix Già supporta il Dolby Vision L'HDR10 Tutte queste cosine che vi dicevo E infatti andare a vedere contenuti multimediali in app terze È una goduria Il bordo curvo tra l'altro poi è davvero poco curvo E quindi non dà fastidio con ombreggiature strane Il feedback della vibrazione è sullo stesso livello dello Xiaomi 13 Anche in questo caso uguale quindi ai Redmi Note È buono seppur non sia una cosa estrema che ti si rigirano gli occhi E non mi si sono rigirati gli occhi Neanche su questa doppia fotocamera frontale Leviamocela subito di mezzo perché continuo a vederla lì E mi dà fastidio Perché mi dà fastidio? Perché non è stata importata come il CP2 originale Il dispositivo che vi dicevo è uscito in Cina Identico a questo 13 Lite Che aveva un autofocus Aveva un sensore diverso Ma anche lo Xiaomi 12 Lite di precedente generazione Aveva solo una camera ok Ma con autofocus Qui qual è il senso? Darci questa doppia fotocamera Con un secondo sensore Che ci dà più informazioni per la modalità ritratto Ma che senso ha avere più informazioni Se tanto le informazioni principali della camera base Non sono di alta qualità Cioè almeno state vedendo qualche selfie Non sono brutti Sono selfie ok, carini Ma non hanno davvero quel quid in più Che ti fanno dire ok Lui è davvero un selfie phone Anche perché poi i video si fermano al 1080p Non abbiamo il 4K Non abbiamo una stabilizzazione ottica Queste sono le cose che fanno di un telefono un selfie phone Non il doppio flash frontale Che ok è carino, è comodo Soprattutto magari in video in completo Scenario notturno Ma quanto è situazionale? Tanto Un OIS è sempre comodo Un Pixel 6a con un vetusto sensore da 8 megapixel Di 10.000 generazioni fa Ha un risultato simile con il software Anzi probabilmente alcune foto sono pure meglio A questo punto parliamo anche di fotocamera principale IMX 766 Vi dicevo non stabilizzata E le foto Io vi metterò una carrellata infinita Perché ne ho fatte davvero molte in questi giorni Sono foto di buon livello Di ottimo livello Cos'è però che manca a tutte queste foto? Quel piccolo guadagno in più Soprattutto in notturno Dove dobbiamo stare molto attenti con la mano Ad ottenere quel micromosso Anzi a non ottenere quel micromosso Proprio perché non abbiamo uno stabilizzatore ottico Che invece troviamo sui Redmi Note 12 Pro Quindi seppur abbiamo delle foto ottime Per questa fascia di prezzo Ma un IMX 766 Ormai lo abbiamo visto e rivisto Su tantissimi smartphone Ecco lì che se volete qualcosa in più Lato foto Affilatevi ai Redmi Note 12 Pro Perché hanno la stabilizzatore ottico Che vi darà una grandissima mano In notturna Nei video Negli ciali dove state fermi con il telefono A fare delle riprese E non avete quei movimenti fastidiosi Sulle camere secondarie Ormai quando troviamo questo tipo di camere secondarie Non ci perdo più tempo Perché sia da una parte che dall'altra Abbiamo un sensore macro Basta sensori macro Poi da 2 megapixel Mamma mia E la camera ultra wide Che fa il suo 8 megapixel Insomma ti serve quel punto di vista più ampio Ok utilizzala Però non stiamo qui a parlare di qualità Perché tanto è inutile Puoi andare a zoomare le foto Di sera serve tanta luce È una camera situazionale Ok ma cos'è che fa girare questo Xiaomi 13 Lite? Beh il nuovo Per così dire Snapdragon 7 TGN1 Nuovo perché non l'abbiamo mai visto in azione E dopo l'aggiornamento Vi dirò Non va male È uno smartphone Che gira fluidamente Piacevolmente Non ho più avvertito Quelle temperature troppo alte Anzi Abbastanza bene le temperature Non siamo sulla media Degli altri smartphone È vero Se lui è usato attivamente Per molto tempo Inizia a perdere ogni tanto qualcosina Ma onestamente Per il 90% delle persone Questo Snapdragon 7 TGN1 Va bene Va bene però come un 778 Non avvertiamo così tanto la differenza Io ho quello che volevo Un po' più differenza Nel gaming per carità si nota Perché lui è più fluido In titoli come Genshin Impact È più piacevole videogiocare E probabilmente Non siamo a quel livello Sul Redmi Note 12 Pro Che devo ancora mettere Sotto torchio lato gaming Ma io credo che Chi prediliga il gaming Vada su uno smartphone di questo tipo Quindi con Batteria più ampia Un sistema di raffreddamento Che permette di Non raggiungere temperature elevate E evitare magari Del thermal throttling Insomma Un device come i Redmi Note Sono più ottimizzati Per il gaming Anche se magari ci perdiamo Qualche virgoletta Lato di dettaglio grafico Comunque Come autonomia Questo Xiaomi 13 Lite Vi faccio vedere Un po' di screen Si comporta bene Perché in una giornata Super stress delle mie Quindi tutto il giorno 5G 200 km di cammicelle Android Auto Wireless Maps Spotify Tanto utilizzo social Foto Video Ecco in quella giornata Arrivo comunque a sera Senza mai notare La percentuale di batteria Magari non arrivo a notte Quindi alle 7 di mattina Arrivo alle 18 19 Alle 20 Però comunque Ho risultato più che onesto Perché Se abbiamo un utilizzo Più leggero Più comune Più standard Ecco lì che con lo stesso tempo Di display Quindi 4 ore e mezza 5 ore Ci arriviamo al 50% Di batteria Con un uso leggero Due giorni di autonomia Si fanno quasi senza problemi E poi abbiamo la carica A 67 watt rapida Quindi anche lì Ci leviamo un gran pensiero Parlando di connettività Allora lui ha una ricezione ottima Ve la sto facendo vedere In questo bunker Prende quasi come I fratelli maggiori Quindi un buon 5G Che però ogni tanto Swap al 4G Non ha quella stabilità Come il 13 e il 13 Pro Abbiamo un Wi-Fi 6 A disposizione E un Bluetooth 5.2 Ovviamente NFC GPS Dove ho parlato del doppio speaker Ve lo faccio ascoltare subito Quello che sentirete ora È il Redmi Note Tappando lo speaker inferiore Quindi sentiremo soltanto Quanto quello superiore compensa Un bel po' Ma adesso sentiamo Lo Xiaomi 13 Lite Passiamo la riproduzione Su questo smartphone Mettiamo Lume massimo Sentite che la capsulina Superiore Ovviamente fa molta più fatica A compensare Lo speaker inferiore Qualche x-top di gamba Che è calato di prezzo Fa sicuramente meglio O smartphone come i Redmi Note 12 Fanno sicuramente meglio Non so cosa sia partito E io direi di non perderci In troppe altre chiacchiere Perché avete capito Qual è il succo del discorso 500 euro Per la versione 828 Sono troppi Sono troppi perché Non ci sono stati netti Miglioramenti Rispetto alle versioni precedenti Anzi qualcuno potrebbe anche Obiettare che ci siamo persi Qualcosa per strada Paradossalmente La doppia fotocamera frontale È relativamente inutile Anzi è stata depotenziata Peggiorata Rispetto al 12 Lite E al CV2 cinese E più che altro Non abbiamo neanche Quella giustificazione Di dire Oh va tutta la grande Quindi Android 12 Lo mando giù Anche perché vi ricordo Abbiamo una nuova politica Di aggiornamenti 3 major update 4 anni Di patch di sicurezza Ma che senso ha Fare questo aggiornamento Dai 2 ai 3 anni Se tanto poi Lui arriva con Android 12 Lui arriva con Android 12 Non ha senso Facciamo le cose fatte bene Rimandiamo di un mese Il lancio Ma portiamolo con Android 13 Anche perché Si è alzato un grosso polverone Quindi se io fossi Xiaomi Cosa farei? Direi Oh scusate Abbiamo fatto una stupitaggine Ecco Portiamo Android 13 Ma vi lasciamo altri 3 major update Quella sarebbe la mossa Da fare Azzeccatissima Guadagnerebbero Tanti 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 punti stile Nei riguardi Di un'utenza Che magari adesso Sta ancora guardando Con scetticismo A una Xiaomi che sta alzando i prezzi Ma comunque Se volete risparmiare Qual è il mio consiglio? Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Perché sta già A 350 370 euro Quindi già molto Molto meno Del 13 Lite È praticamente Lo stesso telefono Anche alcune cose in più E vabbè dai C'è il Mediatek Ma ormai i Mediatek Girano davvero bene Fatemi sapere però Cosa ne pensate Qui sotto nei commenti E noi ci vediamo tra qualche giorno Con la recensione del 12 Pro Plus 5G Sigle Sempre più lunghe Grazie a tutti